Casa ad un euro a Patrica, come mai questa decisione sindaco? Beh come mai perché è un tentativo nostro di ripopolare il centro storico, di rivalorizzarlo e di anche mettere in sicurezza alcuni edifici che in questo momento versano in condizioni di abbandono e di faticenza. Perché noi avevamo proposto in campagna elettorale di giocarcele tutte le opportunità di rilanciare questo nostro meraviglioso borgo la procedura Casa ad un euro che poi ovviamente è un percorso che abbiamo iniziato adesso ma che vedrà sicuramente i risultati, se mai ce ne fossero i risultati perché non dobbiamo comunque ingannare tutti, soprattutto la popolazione noi il tentativo è di avviare questo progetto che probabilmente darà i prossimi risultati nei mesi e negli anni successivi però è un tentativo che facciamo. A questo abbiamo anche integrato dei regolamenti specifici per chi vuole investire sul nostro borgo e per chi comunque realizzerà degli interventi di miglioramento degli intonaci e delle facciate quindi stiamo cercando in tutti i modi di dare lustro al nostro centro storico e tentare con tutte queste agevolazioni, esenzioni anche tributari e quant'altro di far sì che in qualche modo c'è l'interesse anche da parte dei cittadini residenti a tornare solo perché veramente noi abbiamo, insomma io da quando faccio il sindaco e quindi da un paio d'anni che vive in maniera costante il centro storico mi rendo conto della bellezza e anche della tranquillità con cui si può vivere lì per cui il tentativo è iniziato e siamo fiduciosi insomma Per i casi ad un euro è stato fatto un censimento da parte del comune sono 38 gli immobili che si possono acquistare però spieghiamo bene la procedura da parte di chi ha intenzione di farlo? Sì, allora la procedura è un po' diversa noi abbiamo fatto il censimento di questi edifici fatiscenti poi abbiamo approvato le linee guida nostre dell'amministrazione che prevede appunto tutta questa procedura cioè il proprietario dell'immobile può mettere a disposizione il proprio edificio a un eventuale acquirente il prezzo di un euro è ovviamente simbolico perché poi c'è tutto dei costi a cui l'acquirente deve assumersi quali ad esempio la polizia fiduissoria ma anche i costi della ristrutturazione noi facciamo da intermediari cioè noi diciamo che proviamo a convincere semplificando proviamo a convincere i proprietari di questi edifici ad avviare insieme a noi questo percorso che prevederà appunto l'acquisto da parte di altri acquirenti di questi immobili non è destinato soltanto a 38 edifici ma è anche destinato a quei tanti appartamenti sfitti che in questo momento appunto sono anche essi abbandonati ma abitabili da tanti cittadini residenti a Roma o in altre località che però non tornano più a Patrica quindi anche per loro c'è la possibilità di entrare in questa piattaforma che sarà creata voglio chiarire un aspetto questi 38 edifici non sono disponibili per la procedura a un euro ma è in fase di essere iniziata la fase di concertazione con i proprietari affinché appunto gli si faccia capire che c'è una grande possibilità cioè visto che non c'è l'interesse da parte loro perché sono abbandonati, sono fatiscenti, sono pericolanti c'è la possibilità di riqualificare il centro storico con questi nuovi acquirenti eventuali che sono tanti sono tanti perché c'è stata un'ondata di interesse su questa nostra iniziativa per cui sta a noi adesso avviare un processo di concertazione fra soggetti noi ci poniamo in mezzo Tra l'altro sul sito del comune è possibile compilare un'apposita domanda per chi volesse manifestare il suo interesse per l'acquisizione di una casa? Sì, sia per chi vuole acquisire sia per chi vuole entrare in questa procedura che prevede comunque qualora appunto ci fosse la volontà di esentarsi da tutta una serie di tributi e tutta una serie anche di ordinanze a cui si andrebbe incontro quale ordinanze per il degrado, ordinanze per il degrado ambientale perché molti di questi edifici sono pieni di rifiuti quindi ordinanze sulla messa in sicurezza per cui io poi credo che se fossi proprietario di un immobile e non avrei più interesse assicuramente avvalerei questa iniziativa del comune